agenziale cirque per vendere o acquistare la tua casa agenziale cirque professionisti al tuo servizio ben trovati al meteo sarà una domenica di bel tempo al nord est sia pure con un clima un po più freddo e dunque maggiormente in linea con il periodo il dettaglio del 22 novembre sul veneto condizioni di tempo sempre asciutto e stabile al mattino e la sera tuttavia sarà possibile la formazione di foschie o nebbie sulle aree di pianura ma la giornata trascorrerà decisamente con la presenza del sole cielo sarà sereno o localmente velato temperature minime tra meno 1 e 3 gradi massime tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche qui avremo tutto sommato lo stesso scenario determinato da un ampio soleggiamento un po su tutti i settori e non sono attese piogge degne di nota temperature minime fino a 3 gradi massime sui 10 12 gradi uno sguardo in conclusione al trentino alto adige anche in questo caso sarà soleggiato salvo per locali addensamenti ma del tutto innocui temperature minime intorno a un grado massime fino ai 12 gradi all'incirca dal meteo per ora è tutto io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di antenna 3 arrivederci agenziale cirque per vendere o acquistare la tua casa agenziale cirque professionisti al tuo servizio inizio Grazie a tutti.